Onorevole Lolo Brigida, domani il voto nell'aula della Camera. Che cosa direte al Premier? Più che a lui parleremo ai deputati ricordandogli che davanti all'interesse personale alla difesa delle poltrone ci sono quelli degli italiani. Fratello Italia in questi anni ha dimostrato di saper seguire questa linea con coerenza. È vero che ci sono parlamentari dei Cinque Stelle che stanno cercando un confronto con il centrodestra in caso di crisi. Si potrebbe arrivare ad un governo di centrodestra senza il ritorno al voto? Il centrodestra è attrattivo per coasione, per progettualità. È ovvio che tutti guardano a noi come futura forza di governo. Però noi aspettiamo domani, valuteremo gli esiti e poi decideremo che cosa fare a secondo di come andranno le cose. Ieri Giorgia Meloni è stata a Barcellona all'incontro con Vox. Che tipo di percorso europeo state preparando? I conservatori in tutta Europa, in tutto il mondo, ad ogni latitudine, stanno lavorando per creare una rete che permetta di proteggere le persone, con la tradizione, le identità da un globalismo esasperato che considera gli uomini numeri oggetti di consumo.